Allora, vi faccio sentire cosa dice di Salvini Silvio Berlusconi, intervistato da Laura Gobetti. Noi consideriamo Salvini un protagonista, è la Lega, protagonista del centrodestra. Uniti vinceremo, credo, le prossime elezioni amministrative, le prossime elezioni regionali a cominciare da quelle dell'Abruzzo e io sono sicuro che avremo un grande risultato anche per quanto riguarda le elezioni europee. Con Renzi, persona che ha indubbiamente delle qualità e una certa simpatia, certa nel senso di veramente certa, non modica, bene, non sarebbe visto bene dai nostri elettori, perderebbe lui il 50% dei suoi possibili voti e noi altrettanto.